Ciao a tutti amici, andiamo a vedere tutti gli oggetti del pass battaglia della nuova stagione Infatti direi di iniziare dal primo livello, andare in su Però sai cosa, non vorrei stare lì a guardare tipo i standardi, i spray oppure le schermate di caricamento Guardiamo solo skin, balletti, picconi e basta direi, tutto il resto non mi interessa sinceramente E anche i deltaplani Magari qualcosa ci sarà di figo C'è un deltaplano alla fine, verso l'ottantesimo livello c'è un deltaplano Allora, John sì, John sì ci sta, a me piace il fatto che assomiglia a John Wick Quindi è come se tu avessi John Wick alla fine Guarda le scarpette, come sono belle Eh non si vedono da cosa Ah sì sì, visualizza la ricompensa Sì sì No ma ci sta come skin, secondo me la useranno un bel po' Poi vabbè c'è l'emote, subito, quella delle pulizia Dopo che ammazzi qualcuno sul video di bike Sì ci sta, ci sta Poi, allora vabbè qua la musichetta, schermata di caricamento, ok ok, v-back Ci stanno sempre quelli v-back Poi la skin di Lara Croft Ci sono questi qua, i zanni di campo di John Non stai dimenticare di prendere un'ambiente Cos'è che devi fare? Ice reale o qualcosa del genere Completa gli incarichi Ah, completa gli incarichi e sblocca l'istantanea della missione dell'agente Jones Sì, Jones Per salvare la realtà Vabbè chi si prega Comunque il backpack, il backpack, il dorso non mi piace Fa cagare sinceramente Anche a me, è giusto per la storia, per la collezione Vabbè, io della storia me ne fotto, quindi Vabbè La Lara Croft Lara Croft ci sta Bellissima, la prima skin bella Io a me ne sono già guardati tutti Siamo due su due Le prime due skin del pass sono fighe Quindi è già una buona cosa Poi vabbè Il piccone da scasso fa cagare A me non piace La scia schifo Manovra difensiva Sì, manovra difensiva ci sta Se magari c'è qualcuno che ti spara Che non riesce a prendere un colpo Ti metti a ballare Ma secondo te riesce a evitare colpi in questo modo? Secondo me sì Dobbiamo provarla Una volta dobbiamo provare In creativa dopo proviamo Poi vabbè V-Buck Paracadute da recupero Lara Croft Questo qua è il secondo stile Il paracadute non ti piace? Ma che vabbè C'è il del Paracadute di recupero Sì Ma boh Non tanto Carino È carino Diciamo che non ce n'è di genere di paracadute Quindi proprio il paracadute Così non ce n'è nel gioco È il primo È quello che so io Vabbè Io tanto uso quello di Lexa per adesso Che è il mio preferito in questo momento Poi il secondo stile di Lara Croft Ci sta anche quello Il quesimo all'universale È il migliore Io giocherò a un botto Con questo Sono sicuro Io sto guardando Lo strumento di raccolta Quello al 26esimo livello Che secondo me Farà un sacco di rumore Ti ricordi quello di Aspetta Non mi piace Dico subito che non mi piace Il deltaplano invece Non è male Quello al trentesimo livello Sì Almeno sì Il deltaplano Non A me non mi piace questo Stile Post apocalisse Come si dice in italiano Post apocalisse Sì post apocalisse E che c'è Pierre No non mi piace lo stile proprio di quello È fatto in quel stile lì Tipo Ah hai visto Hai visto che c'è il dorso decorativo Quello al trentaquattresimo livello Il dinozaino È tipo lo skateboard con Ah è vero Con lo scheletro del Di un animale Ci sta Però Ci sta Non lo userò mai sicuramente Mai Poi Lo stile Lo stile fa schifo Lo stile Quello di Di tarana Fa schifo Poi il piccone Fa schifo Ce n'è uno Che assomiglia Che assomiglia A me A questa A me non piace Cioè proprio Esiste una specie di questo Da quello che Da quello che mi ricordo No non mi piace Poi il deltaplano Cifrario volante A me non piacciono Questi tipi di deltaplani Ecco Una cosa Una cosa figa È la scia Al quarantottesimo livello Cromofiamme Cazzo è bellissimo Hai visto Bello C'è l'effetto Proprio Secondo me Lo userò per un bel po' Questo effetto qua Poi Il 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 tipo Raz Ci sta Sembra un po' Travis Scott Da dietro Quando lo userai Forse si Aspetta Pardon Cazzo Ah ci sta dai Ma Allora A guardarlo adesso Ci sta Però secondo me Non lo userò tanto Come D'altronde Tutte le skin Del pass battaglia Però Tipo Lara Croft Ad esempio Secondo me La userò un botto No La Croft Sicuro Il secondo Poi 25 25 anni Di anniversario Bellissima La seconda Poi vabbè C'è questo Cosa che abbiamo I V-Buck Poi L'Emot Che Boh C'è niente di Particolare Poi vabbè La skin Bellissima Cocodè Io Non so Perché li mettono Nel pass battaglia E' piccolo Che c'ho Ma ho visto Ho visto Ma Boh Ma si Un po' divertirsi Sì Sì Beatbox Come mote Beatbox Ma Cazzo Questo qua Sì Questo qua Bellissimo Che bello No questo Sì Questo merita Che devi vedere Come sta Beatbox La cosa La Sara Non ho Risto ancora No no Con la Sara Si mette Se c'è la skin Di Sara Qua La Ti metti La Bossa Ci sta Andando Poi Guardiamo La prossima Cosa Lo stile Di Cocodè Vabbè Sempre schifo Sempre schifo Piccone E far cosciente Ah Il deltaplano Il deltaplano Al 72 Ci sta Serie Di sì Questo è bellissimo Azeroth Ah vero Sì Bellissimo Sì 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 Questo 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 è figo Poi Vabbè Copertura Abbiamo detto Che non Che non le guardiamo Non le guardiamo Però Fiore zero Secondo me Merita Quello Al 75 Hai Hai visto Con l'effetto Del punto zero Ci sta Ci sta Corvina Rinata Cosa ne dici A me Non piace Secondo me Senza Sai Sai chi Sembra Da dietro A guardare Da dietro Se fosse Un maschio Sembrerebbe Jon Snow Ma Sai Corvina Rinata Mi sembra Come la WandaVision Non so Se hai visto No Nella serie tv C'è WandaVision E c'è Questa qua La Ah ma Questa è Serie Serie Di sì Eh sì Infatti Teen Titans Figlia di un demone E membro fondatore Dei Teen Titans Io non lo so Non capisco Poi il piccone Senza Allora Sulla skin ti volevo dire Senza Il backpack Forse è figa Ma secondo me Non gli puoi mettere Tanti backpack No No Puoi togliere Senza il backpack Non so se si potrebbe togliere Però Il mantello Dici Sì sì Il mantello Vabbè Senza il mantello Ci sta Però Secondo me Non lo potrai togliere Perché se lo fanno vedere così Boh Vedremo Vediamo Poi c'è il piccone Forma Asktrale È un altro Asktrale Forma Asktrale Un altro tipo di piccone Fa schifo Però Un bel movimento Guardalo Ma è Come quello che ha comprato Dei Dei supereroi Alla fine Sì sì Sembra quello di supereroi Però questo fa Una scia Con la cartona animato Hai visto Il Il dorso decorativo Quello 82 Cancello dimensionale Però Quanto Quanto cazzo È distante Dalla schiena Hai visto Secondo me Ti si vedrà Da lontano Un 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 botto Proprio Sì 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 Ti Accavarci Da quel più fatto Ti siedi Cazzo Bella questa emot Quella di Azarat Metrion All'83 Cos'è Forma un lama Poi corvina classica Questa è molto più bella Scusa È quella di prima Sempre Ah ok Ah ma vedi che c'ha sempre il mantello Cioè secondo me non puoi togliere il mantello Perché nel primo c'è il mantello quello con le piume tipo Invece nel secondo c'è un altro mantello Secondo me non lo potrai togliere Quindi No Vediamo Vediamo Poi il deltaplano È come il mantello della cosa Cazzo ma quanto cazzo è bello il fuoco di giuglia Di guglia Il fuoco di guglia Il deltaplano 89 Sì Il livello 89 Cazzo questo qua è bellissimo Figa Questo mi piace Questo è figo Questo fa parte della Mamma mia ma questo qua è bellissimo Figa Ma guarda l'effetto quanto cazzo è bello 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 Questo sì Con le mani dietro Forse cambierai il deltaplano Sì 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 sicuramente lo cambierò Basta quello di Lex non mi piace più Guardati la Dopo c'è Ah il dorso il dorso decorativo Ah lì dell'anima No no il cavaboom Anche se abbiamo detto che era il problema dei graffiti Ah lo spray Sì sì ho visto È quasi il gattino del cartone animato è quello Sì 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 Ah è ma quello dei Simpson mica No è del cartone animato quello Che c'è anche in bianconero era Del gattino Ah ma scusa Ma non era quello Il cartone animato Quello che c'era nei Simpson Gratta e graffia Qualcosa del genere Eh forse del gatto Sì 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 Che si ammazzavano ogni volta Che si Non so si stupravano ogni volta Che cazzo nessuno Sì 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 C'era anche Mi sembra il topo Eh c'era Era tipo Era tipo un Tommy Jerry Però Tipo Molto più violento Alla Simpson Sì 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 Secondo me È da lì che arriva Perché anche le mani Vedi come sono Il dorso Il dorso ci sta Però secondo me è un po' È un po' grosso Cioè un po' Prova a muoverlo Prova a muoverlo Eh sì L'effetto L'effetto Sì è strafigo No allora Il deltaplano E il dorso Questo qua Con lo stesso effetto Sono fighe Sì Vorrei provare a usarli Nel gioco E vedere come sono Tanto Arriviamo Veloce All'ovantesimo Poi La scia Carina anche questa Ma quella di prima Era molto più figa La intrusione dimensionale Sì Ma io andavo a guardare Un botto Che a me Non fanno più Nessun effetto Questo c'è Poi c'è il piccone Fiamma della guglia E questo E beh Di quella tipo lì Di prima Aspetta fammi sentire Il rumore Ci sta dai Non è male E poi vabbè Alla fine c'è Il Assassina della guglia Figa Ti piace La scoparesti Sì Fanno il culo Effettivamente No ma Il dorso Guarda il dorso Come ce l'ha Sì Con le mani Tutto Come Mi piace Non mi piacciono I tacchi Come al solito Lo fanno Un po' boom Non lo so Sotto non mi piace In generale Non è male Dai È abbastanza È abbastanza carina Ma poi Ci sono quelli Tipo Di bonus No Ci abbiamo Sì Ah ma scusa Hanno messo Lara Croft In In Serie leggende Dei videogiochi Sì Ma è tipo Minecraft Figa È tipo Sì Ci sta Dai Ah ma scusa Ma hai visto Rackle Rot Quello di Ah ma è un'opzione Stilistica Aggiuntiva Per Corvina Rinata Eh questo qua È strafiga Questo qua C'è i jeans Figa Tarana fa cagare Sempre Però è simpatico Guardalo lì È tutto Ah poi ci sarà Neymar Hai visto Lo sapevi Lo sapevi Lo sapevi Che ci sarà Neymar Il calciatore Il calciatore Neymar Guarda Vai avanti Il costume Epico Aspetta Il primo punto Di domanda è grosso Neymar GR Da svelare A me non mi fa vedere niente Ma quando vai avanti Scusa Dopo Dopo Rackle Rot Questa qua L'opzione Per Corvina Lo stile di Corvina Dopo vai avanti La pagina in avanti Eh Perti domanda A me non mi fa vedere Acquisto il pass battaglia Ah perché Non ho il pass battaglia Ah ok Comunque c'è Ma scusa Io sono povero Ah ok Comunque c'è Il costume Che è Praticamente C'è scritto Si sbloccherà In 42 giorni E in teoria È quello di Neymar Il calciatore Penso Quanti vi baccai? Zero 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 Io raccolerò 300 Fino all'ottantesimo Mi sembra Fino all'ultimo Cioè 300 Impasti Sono Basta 300 300 Vi bacchi in pass Li raccolgo Io ho 390 E poi Io forse Lo posso prendere Però dai Ci sta A me piace Questo pass Bello No dai Ci sono un sacco Di skin Comunque che Sono abbastanza Valide Diciamo che La season scorsa Non era così ricca Di skin Beatbox Beatbox E strafigo Allora Le cose che mi piacciono di più Sono Vabbè Agente Jonesy Ci sta Che è quello che Secondo me lo userò tanto Poi Lara Croft Quella Il 25esimo anniversario Anche quello la userò Sicuramente Anche la prima è bella No Non mi piace Poi La prossima cosa Che userò sicuramente È la scia Questa qua Cromofiamme Poi 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 Vabbè Le mod beatbox E strafigo La metterò anche quella Nei preferiti Poi abbiamo 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 Cos'è che c'era Di figo ancora Non mi ricordo Ah Il deltaplano Che è strafigo Il dorso Non lo so ancora Devo provarlo In partita E basta Direi che Cioè La skin Al centesimo livello Ci sta Però non penso Che la userò La userò spesso Sì E basta Finito Finito Let's go A fare una partita La prima partita Dai dai Adesso facciamo Facciamo la prima partita La prima fake Partita Quella di prima L'abbiamo già persa